Ma no, no, c'è sempre a lavorare. Anche quando non subisci tiri o subisci magari uno in porta, c'è sempre a lavorare. Bisogna sempre stare attenti, soprattutto dopo una partita contro l'attacco più prolifico del campionato, se non sbaglio. Che avete annullato per oggi? Sì, fortunatamente sì, abbiamo fatto una bella partita e siamo riusciti a chiudere la porta subendo zero gol. Hai detto l'attacco più prolifico del campionato, quello del Pescara, che per oggi si è presentato un po' a sorpresa, senza punte di riferimento. Vi aspettavate questa soluzione e dillo sinceramente vi ha anche un po' avvantaggiato, no? Ma loro sono... ma molte volte quando non hai il punto di riferimento in attacco per i difensori è peggio. Però alla fine facevano tante rotazioni, si muovevano molto, anti giocatori fastidiosi, con grossa tecnica, però li abbiamo annullati alla grande. È stata una partita non bella, Lorenzo, lo possiamo dire, anzi piuttosto brutta nel primo tempo, meglio nella ripresa. Ne parlavamo anche con il tuo compagno di squadra, AS. La sostituzione di Nesta, l'ingresso in campo di Dionisi, ha cambiato il volto di questa gara? Ma il primo tempo era un primo tempo ingiocabile, perché c'era un sole pazzesco che ogni volta che stoppavi palla ti faceva perdere uno o due tempi di gioco, quindi noi dovevamo aspettare, aspettare di finire il primo tempo 0-0, possibilmente di farne uno in ripartenza. Ci siamo chiusi bene, non abbiamo concesso niente, poi il secondo tempo abbiamo aspettato il momento giusto, abbiamo fatto gol quando dovevamo farlo. Fede è entrato benissimo, sappiamo le sue qualità e l'ha dimostrato un'altra volta. Ti chiedo un'ultima cosa, perché questa per voi sarà una settimana molto importante, andrete a Benevento, due squadre che si incontrano spesso in Serie A negli ultimi anni, è il big match del campionato? Ma big match o no, ci sono tante squadre che lottano per le prime posizioni, il Benevento ha fatto un po' di vuoto dietro di lei, però penso che sia una gran partita, noi l'affronteremo la settimana come affrontiamo tutte le settimane, sicuramente venendo da una vittoria l'affronteremo col sorriso, però concentrati e aspettandoci una battaglia.